La musica, i canti in costume, i piatti della tradizione. La famiglia Bosina si ritrova a Palazzo Estense per la cena degli auguri. Insieme al sindaco e a personalità della città, ospite d'onore della serata è stato Giorgio Lotti, fotoreporter varesino riconosciuto a livello internazionale. Tradizione, collaborazione e anche innovazione sono oggi i cardini della famiglia Bosina, spiega il regiù Luca Abroggini. Il protagonista è come sempre il Calandari, presentato e raccontato al pubblico da Robertino Ghiringhelli. Qui si trovano storie, aneddoti e curiosità su Varese e i suoi personaggi. Il Calandari c'è dal 1956, il nome non significa proprio che è un calendario con tutti i mesi, ma bensì è una specie di libro storico della città di Varese. Il Calandari di quest'anno che vedete in questa prima pagina è fatto da Carlo Zanzi, che ringraziamo tutti, il professor Carlo Zanzi perché lui lo cura oramai da anni, dopo l'avvocato Pagani che l'ha curato per tanti anni e che tra l'altro oltre novantenne è qui presente questa sera. Parla appunto degli argomenti che ho detto io da tutti i punti di vista. Diciamo che se vogliamo guardare è proprio un antico libro della provincia di Varese, perché racconta anche di persone, come ho detto prima, che magari non sono più conosciute o sono state dimenticate. E poi anche delle piccole cose, anche delle curiosità, ad esempio io in un Calandari del 1972 ho letto qualcosa che parlava del campanile del Sacromonte e dell'orologio, che se l'orologio che guarda verso sud, verso il Mosea, ha 60 minuti, mentre quello che guarda verso est, verso la rasa, ne ha 61, perché tra il 30 e il 35 ci sono sei spazi. E quindi sono curiosità che si possono leggere sul nostro Calandari dal 1956 ad oggi.